E tu che pizza vuoi? Un Happy Meal! E tu che cosa vuoi? Papà, ma che a me va a costare schifezza? Ti voglio la pizza! Tuo figlio non ha dubbi. Pizza a portafoglio. Neuro, neuro e cinquanta. Purizia dei forni, che stando a quanto emerso nella trasmissione della Gabanelli, sono risultati nella maggior parte dei casi incrostati da farina bruciata e anneriti da fumi non salutari. Appellato dalla trasmissione, l'ecotossicologo Perin delle Università di Venezia ha spiegato che il prodotto della combustione del legno è cancerogeno e questi elementi nocivi possono essere assorbiti dalle pizze. I giornalisti di reporto hanno visitato pizzerie di diverse città italiane, indagando anche sulle materie prime, sui contenitori d'asporto e sul mercato delle pizze surgelate, che per fortuna non riguarda le pizzerie napoletane, anche se ultimamente, specialmente nel centro storico di Napoli, mangiare una vera pizza napoletana è diventata impresa ardua. Sarebbe ora che i pizzaioli, oltre a preoccuparsi della manutenzione di forni a legna, tornassero a preoccuparsi anche dell'alimento pizza, così come stanno facendo alcuni cittadini che hanno raccolto oltre 25.000 firme per candidare l'arte della pizza napoletana come bene immateriale dell'umanità nella lista unisca. Ebbè la pizza ce la invidia a tutto il mondo, guardate che bontà, vorrei morderla soprattutto a quest'ora, ma la pizza fa bene e fa male, quanta ne dovremmo mangiare e quale da preferire? Io ho preso la pizza bianca, anzitutto vorrei ringraziare la pizzeria Bonci che ci ha dato queste meraviglie, questa bontà di pizza bianca e le farine che vedete a lievido madre soprattutto, di pizza parleremo però con la dottoressa Valentina Gagliazzo che ci darà, biologa, nutrizionista, che ci darà delle indicazioni giuste su quale pizza mangiare e quando fa male, come sceglierla anche la pizza? Innanzitutto la pizza fa ingrassare questo... Ecco, partiamo con una domanda cruciale. Innanzitutto non è un alimento dimagrante, per quanto riguarda il fatto che faccia ingrassare dovremmo piuttosto pensare a quanta se ne consuma giornalmente in base, cioè, pensando sia alla quantità che alla frequenza poi settimanale con cui noi la consumiamo ed è quello che determina il suo fare ingrassare o meno E qui io vedo, soprattutto qui a TV2000, che molto spesso a pranzo, tutti i giorni, le persone ordinano la pizza. Allora, mangiarla tutti i giorni, no? A pranzo, a volte, ai noi, anche a cena ehm... come... già vedo la faccia della dottoressa che mi ha... anche lei... dovrebbe essere evitato? Esatto, sì. Non dovrebbe essere consumata più volte al giorno e nemmeno tutti i giorni. Questo perché? Perché comunque la pizza è un alimento molto calorico. Pensiamo che 100 grammi di pizza margherita contengono circa 250-300 calorie. Una pizza media come questa, per esempio, invece pesa 300 grammi. Quindi come apporto solo con una pizza del genere introduciamo 900 calorie, che sono davvero davvero tante. Troppe. E se poi pensiamo che possono aumentare a seconda degli ulteriori condimenti che noi utilizziamo, per esempio, con l'aggiunta di salumi, di uova o di altri formaggi, possiamo arrivare anche a 1500 se non anche di più come apporto calorico. Quasi tutte date da carboidrati e poi dai grassi, ecco perché dovrebbe essere consumata non più di una volta alla settimana. Una volta alla settimana. Allora parliamo anche delle proprietà, perché insomma, io ho detto, è un alimento che ci invidia un po' tutto il mondo. Tentano di imitarla, ma grazie a noi non ci riescono. Solamente in Italia si mangia dell'ottima pizza. Parliamo delle proprietà. Allora, le proprietà, innanzitutto distinguiamo, la pizza si compone di due parti, l'impasto e il condimento. Per quanto riguarda l'impasto, questo è fatto da farina soprattutto, quindi poi, olio, acqua e sale. Come proprietà, la farina è la più grande fonte di carboidrati e sono carboidrati complessi, quelli che ritroviamo nella pizza, che forniscono la maggior parte della nostra energia, del nostro carburante giornaliero. L'olio e la mozzarella, poi, che vengono utilizzati come condimento, invece forniscono dei grassi di origine vegetale piuttosto che animale. E sono anche tanto importanti perché contribuiscono proprio la palatabilità, il gusto, alla nostra pizza. Poi il pomodoro. Poi c'è il pomodoro, ovviamente, che è una ricca fonte anche di polifenoli, insieme all'olio. Per esempio, il pomodoro contiene anche il licopene, che ci aiuta a combattere i radicali liberi. Allo stesso modo, anche l'olio è ricco di polifenoli, anche essi utili per contrastare la formazione di radicali liberi. La mozzarella o gli altri formaggi, in invece, apportano una piccola quota anche di proteine, oltre che di grassi. Anche il basilico, eh? C'è anche il basilico, assolutamente, che contiene anche vitamine, assolutamente. Certo, ci sono due foglie, quindi la quantità poi è minima. Però, dal punto di vista nutrizionale, la pizza è un alimento che porta carboidrati, grassi, proteine, poi minima parte anche delle fibre. Allora, per praticità, molte volte noi andiamo al supermercato e compriamo la pizza surgelata. Ha le stesse proprietà di una pizza fatta in casa, oppure comprate in una pizzeria come si deve? Assolutamente no, perché nelle pizze surgelate che cosa troviamo? Dei prodotti che non sono di alta qualità. In che senso? Spesso troviamo delle miscele di oli e non l'olio extravergine di oliva, con cui invece dovrebbe essere fatta. Oppure ancora la quantità di sale è troppo elevata, nel senso che va a superare la dose giornaliera consigliata, quella dei 6 grammi al giorno per noi. Così come anche i formaggi potrebbero essere di dubbia qualità. Ecco perché la pizza surgelata, se da un lato costituisce una soluzione veloce, invece dall'altro ne paghiamo in qualità del prodotto stesso. Allora, noi il fine settimana di solito andiamo in pizzeria. Allora, quale pizza dovremmo preferire rispetto ad altre pizze magari molto più gustose, farcite, con tanti grassi e per non arrivare alle 1200-1300 calorie di cui ci parlava prima dottoressa? Allora, sicuramente una pizza bianca, oppure una margherita, oppure una pizza bianca con le verdure, queste rientrano tra le pizze più dietetiche, diciamo con il più basso apporto calorico. Allora, parliamo delle farine. Qui è il nodo dolente, secondo me. Allora, ci sono vari tipi di farine. La farina di kamut, la farina integrale, farina ai noi tanto raffinata a volte. Allora, quale è la farina migliore per poter fare una pizza? Allora, dobbiamo sempre cercare di capire bene che tipo di farina ci viene proposta, in che senso. Spesso in pizzeria si utilizza anche una pizza al carbone vegetale. In questo caso dobbiamo essere ben informati e sapere che il carbone vegetale in realtà è un colorante piuttosto che non un ingrediente vero e proprio. Sarebbero da evitare le pizze con farine raffinate ed è sempre meglio scegliere quelle integrali o quelle di farro o per esempio quella al kamut. Del kamut si sente tanto parlare, ma occorre che sia ben specificato che tipo di kamut, nel senso che il kamut vero e proprio è quello integrale, quindi deve essere una pizza con la farina di kamut integrale. Ci deve essere scritto, deve essere indicato. Esatto, perché in questo modo possiamo beneficiare dei pregi del kamut, quello di essere una farina a basso indice glicemico, che è quindi consigliata per tutti coloro che stanno a dieta, che seguono un regime alimentare particolare e vogliono, tra virgolette, cercare di non ingrassare. Di non ingrassare. Allora, parliamo del lievito. Sì. Perché tante persone uscite dalla pizzeria hanno questa pancia molto gonfia, dipende sempre molto da lievito, che tipo di lievito, allora tante volte noi troviamo pizza ovviamente fatta con il lievito madre anziché con il lievito sintetico. Qual è la differenza dottoressa? Allora, la differenza tra un lievito madre e un lievito sintetico, come per esempio un lievito di birra secco è tanta. In che senso? Il lievito madre fa sì che la pizza lieviti per tantissime ore. Si può arrivare addirittura a 72 ore di lievitazione. Più è lievitata la pizza, meglio è, perché è più digeribile per noi. Le lievitazioni istantanee comportano invece quella classica sensazione di sete e di pesantezza subito dopo aver ingerito la pizza. E' quell'aspetto fastidioso del dopocena quando usciamo dalla pizzeria. Questo perché purtroppo la lievitazione è troppo frettolosa e la pizza continua poi... Lievita in pancia. Esatto, possiamo dire anche questo. Ecco perché poi avvertiamo quel gonfiore subito dopo. E' anche dolente. Scegliamo sempre una pizza con una lievitazione naturale e soprattutto con il lievitatore. Allora, molti ci stanno chiamando tante telefonate per capire esattamente perché molte persone, a me compresa, piace la parte bruciacchiata della pizza. Più è bruciata, più è più gustosa. Allora, dobbiamo toglierla o la possiamo anche invece mangiare? Allora, ogni tanto la parte bruciacchiata può essere consumata. Questo problema delle parti bruciacchiate si pone non solo per la pizza ma anche per la carne cotta al barbecue piuttosto che per la bruschetta. Che cosa accade? Quando la fiamma è troppo alta, la pizza si brucia e si sprigionano quelli che si chiamano idrocarburi policiclici aromatici. Queste sono delle sostanze che nel nostro organismo possono interferire e provocare l'insorgenza di tumori. Però che cosa accade? Non bisogna neanche essere allarmisti o preoccuparci così tanto. Un applauso alla dottoressa che così è sdoganato. Ogni tanto fa anche bene. Questo ci rincuore e rassicura. Dal punto di vista biochimico nostro siamo in grado di depurarci da queste sostanze tossiche. Tutto pari a seconda della quantità. Se noi mangiamo una pizza intera completamente bruciata sei volte su sette alla settimana, è ovvio che in quel caso poi diventa una dose quasi velenosa per noi quella parte bruciacchiata. Allora, dottoressa, ci dia un consiglio per quando andiamo in pizzeria. Allora, perché non consumare prima un piatto di verdure? Per esempio un piatto di insalata o non un piatto di verdura cotta? Questo perché? Perché la fibra contenuta nelle verdure ci aiuta innanzitutto a saziarci prima, ma anche a rallentare l'assimilazione dei carboidrati contenuti nella pizza. Quindi anche questo è un trucco per, tra virgolette, ingrassare di meno. Per cui prima l'insalata e dopo la pizza. Grazie alla dottoressa Valentina Chegnazzo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.